Grazie a tutti. Grazie a tutti. O addirittura distorse e generano confusione. Siccome c'è di mezzo il futuro di un uomo di voi, credo che sia un argomento che meriti di essere attenzionato nel migliore dei modi e compreso. Posso contare su questo livello di attenzione? Grazie. Grazie a tutti. 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 ingrandimento sul primo e secondo semestre, vi dirò i numeri, quali sono i punteggi per superare questo metodo in Francia, la percentuale dei successi divisi tra studenti iniziali e universitari, vi farò vedere una prova e il sistema di valutazione dei punteggi che è involto diretto dal nostro. Anzi, inizierei proprio da questo punto, tra poco vi mostrerò una prova a risorsa multipla. Allora, iniziamo. Il primo anno comune sulla salute a Montpellier racchiude 4 corsi di laurea. Quindi questo tipo di selezione è relativa a chi sceglie di fare medicina per il primo corso di laurea, odontodiatria, ostetrica e farmacia. Vengono in Francia raggruppate questi 4 corsi di laurea insieme. Quindi la persona tecnicamente può avere la possibilità di concorrere a medicina, che qualora non dovesse, ipotizziamo che una persona come prima scelta medicina può concorrere non solo a medicina ma anche agli altri 3. Quindi se non fa un punteggio minimo può ripiegare sulla scelta di odontodiatria oppure può ripiegare su ostetriccia o su farmacia. Ovviamente il livello, i criteri di priorità e ogni singola persona le decide per sé. Ok? Quindi qui credo che è molto lineare. Allora, a Montpellier fisicamente, siccome ci sono, ora tra un po' ve lo mostrerò, 2600 matricole, logisticamente vengono utilizzate le aule, sono aule da 100 posti, vengono utilizzate le aule della facoltà di medicina e anche quelle di farmacia. Quindi sono due siti distinti con delle aule della capienza di 100 persone cada una. Ok? Allora, organizzazione annuale, come avviene? Sono due semestri che in effetti non sono passi da 6 mesi. Ok? Il primo semestre, diciamo, sono tutti semestri parziali, cioè il primo che inizia da settembre e finisce a fine novembre e il secondo che inizia a gennaio e che finisce ad aprile. Ok? Vi è più semplice vederlo così. Ora, se avete la possibilità, prendete nota su questa timeline che coinvolge e prende praticamente lo svolgimento dell'anno accademico che viene svolto in Francia. Allora, vi evidenzio, allora, primo semestre inizia il, questo è relativo all'anno accademico 2013-2014, ok? Il, praticamente il, da settembre a novembre, quindi dal 4 settembre fino al 30 di novembre, ve lo scrivo qua su, parte il primo semestre, quindi con le lezioni al mattino e dell'esercitazione al pomeriggio. Il 30 a novembre, quindi alla fine del secondo mese, cosa accade? Si interrompono le lezioni, vengono dati 15 giorni di stacco, sono finalizzati a un ripasso, ok? Esattamente la parte del segmento che sto evidenziando, ok? E in questi 15 giorni ogni studente che fa? Si fa un ripasso dei primi esami. Ora, qualcuno di voi sa quanti sono, vi ho già mandato del materiale sul gruppo, avete già un'idea di quanti, di quanti siano gli esami del primo semestre? C'è qualcuno che mi riconda, please? In tutto l'anno innanzitutto, quanti sono gli esami? Allora, Andrea 3, in effetti è 3 più 1, Andrea. Allora, in tutto l'anno ci sono 7 esami. Il primo anno di medicina in Francia, così come anche in Italia da resto, sono 7 esami totali, ok? 4, perché dico 3 più 1? Perché 3 finiscono, diciamo, il test viene fatto a dicembre. C'è invece uno dei 4 esami, ok? Che ha due parziali, uno nel primo semestre e uno nel secondo semestre. Quindi praticamente a dicembre cosa avviene? Seguitemi bene, per ogni esame, ok? Gli esami, vi mostro subito i primi 4 esami, prendo un altro documento. Allora, questo è il programma che consegna l'Università di Montpellier, ok? Il programma è il seguente. Ve lo zoom un attimo, così avete modo di vederlo bene. Riuscite a vederlo? Datemi un sì, please, anche se... il programma è molto intuitivo. Lo vedete tutti, ok? Allora, questi sono i 4 esami che li metti in evidenza. Allora, la sigla UE, ok? Sta per esame 1, esame 2, esame 3, prima parte, vedete? E poi c'è il quarto esame del primo semestre. Allora, il primo esame è quello che vedete, quindi gli atomi e parti praticamente chimica e biochimica.